E Natale su misura in Corso Roma Montecatini Terme continua con la tipografia storica di Grazia. Ciao, ecco qua, immetto subito qua dietro, c'è Petra. Ciao Petra. Bella, sorridente, questa deve essere l'accoglienza a Montecatini. Allora, Natale su misura, anche tu hai preparato delle cose su misura per il vostro Natale. Spiegane qualcuna. Sì, allora innanzitutto volevo dire che noi siamo una tipografia dal 1951 e abbiamo fatto questa nuova linea solo da due anni perché di generazione è passata a me. Quante generazioni? Tre, sono la terza. Queste sono le cose che facciamo su misura, queste sono le lettere in cartone. Si può scegliere sia il carattere che la fantasia che la dimensione che si fanno appunto su ordinazione. Poi mi piaceva, scusa se io parlo, questa cosa mi ha colpito, questa targa, va bene? Una cosa un po' insolita, il cartone con i caratteri... Sì, sì, e questi sono i caratteri tipografici della nostra ditta perché prima la stampa veniva fatta con i caratteri mobili di piombo. E quindi con questa targa noi consegniamo i caratteri di piombo della nostra ditta con la relativa stampa su cartoncino. Anche questa può essere fatta con la frase che uno desidera, quindi un pensiero, un riconoscimento, con la misura che uno desidera e con la forma ovviamente. Poi ci sono cose anche un po' più colorate, per esempio queste. Sì, questa è la linea compleanno, praticamente personalizziamo o compleanno o evento o festa, personalizzata con la fantasia o i colori che uno desidera, l'alzatina per i dolci, la fascetta per le bottiglie, i runner o le tovagliette e i pirottini per i muffin e gli stecchini. Naturalmente noi qui, avendo poco spazio, abbiamo preso solo qualcosa, ma ora le immagini della nostra telecamera curiosissima. Io però voglio far vedere questi quaderni. Sì, anche questo è un quaderno personalizzato. Il bambino ci porta un suo disegno e noi lo riproduciamo sulla copertina del quaderno della scuola per differenziarlo dai quaderni commerciali che ci sono in giro. E poi io qua avevo un vecchio giallo al quale ero molto affezionato, ma volevano buttarlo via in casa. Guarda cosa mi hanno inventato alla tipografia di Grazia. Questo è un portacarte fatto da un vecchio libro. Se uno non lo vuole buttare via lo recicla e ci mette o la posta o i biglietti da visita oppure lo tiene semplicemente in casa come un portacarte. Perfetto, quindi Natale su misura, la tipografia di Grazia, Montecatini Terme, ma poi non solo, non abbiamo fatto vedere soltanto cose tipicamente natalizie, anzi possono essere adatte per qualsiasi venienza, un San Valentino, una Pasqua, qualsiasi bel momento è legato alla tipografia di Grazia. Sì, volevo dire che oltre a tutte queste cose su misura abbiamo anche tutti i giochi ecologici e creativi per bambini che vengono dal nord Italia, che è una cultura molto diversa del gioco dalla nostra, per stimolare un pochino la fantasia di questi bambini che purtroppo al giorno d'oggi sono abituati ad avere i giochi un pochino preconfezionati, che fanno tutto da solo. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei.